Potrebbe essere, altrimenti, perché oggi è nata una stella, ma diciamo, secondo me ho lavorato nel tempo per diventare una stella. Diciamo adesso è un po' il coronamento e un punto di partenza per, diciamo, prima di tutto per la finale di stagione e poi per il passaggio tra gli elite che sicuramente spero di riservarmi delle belle soddisfazioni. Chiaramente oggi aveva stata una squadra fortissima, credevi di poter fare una squadra del genere? Ma i primi giri quando c'era anche Enrico, che eravamo in testa tutti e due, sicuramente mi sarei messo a disposizione se avessi avuto bisogno di un aiuto. Solo che un po' dopo gli avvenimenti in corsa che ho avuto qualche problema, mi sono ritagliato il ruolo di capitano per giocarmi la vittoria assoluta. Ho giocato al meglio le mie carte e ce le ho fatte vinti, ho primeggiato. Grazie a tutti.